. Calcio, eccellenza. 20 miglia, Claudio Scognamiglio pronto ad iniziare la nuova stagione, l'obiettivo è migliorarsi. . La stagione del 20 miglia sta per scattare e il nuovo campionato di eccellenza sarà un banco di prova per una squadra giovane che proverà a migliorare la passata stagione sempre agli ordini di mister Caverzan. Raduno e Coppa Italia. Il raduno della compagine Granata è stato fissato per martedì sera presso lo stadio Morel, con la squadra pronta a tornare a sudare. . Intanto il sorteggio del calendario della Coppa Italia metterà subito di fronte alla prima giornata i frontalieri contro l'Imperia nel derby esterno. Parla il numero 1. A poche ore dell'inizio del ritiro precampionato a parlare ai nostri microfoni è il portiere Claudio Scognamiglio, uno dei giocatori tra i più presenti nella scorsa stagione, l'estremo difensore parla degli obiettivi stagionali di squadra e un parere su Lamberti, al centro di voci di mercato, e del ritorno di Frasson in veste di allenatore dei portieri. . Claudio Scognamiglio, una nuova stagione sta per iniziare, quali sono gli obiettivi del suo Ventimiglia? Il nostro è un gruppo unito, con molti miei compagni siamo insieme da anni, e sarà arricchito da molti giovani, ma è da noi più grandi che deve arrivare la spinta giusta per migliorare la scorsa stagione. . 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